Unboxing del DJI Mavic Pro Andando ad aprire la piccola ed elegante confezione, ci troviamo di fronte il Mavic e il suo radiocomando. Andando ad estrarre i due componenti, capiamo fin da subito quanto questo drone sia piccolo e compatto, ma anche ben realizzato. Al di sotto del Mavic vi sono due pochette contenenti 6 eliche, quindi con due di ricambio. Le eliche sono a rilascio rapido e sono anche chiudibili per favorire la compattezza del mezzo. Al di sotto del radiocomando vi è un libretto delle istruzioni molto minimal e se non siete esperti vi consiglio assolutamente di consultare dei forum come ad esempio DJI Mavic Italia. Comunque subito al di sotto delle istruzioni vi è anche la pubblicità di DJI Care Refresh e infine l'alimentatore del drone. E per finire il kit, nell'ultimo scompartimento vi è una piccola scatoletta con all'interno altri accessori. Quindi al suo interno troviamo la parte finale dell'alimentatore con la presa da muro. Una serie di cavi che serve per la connessione fra radiocomando e smartphone. Quindi troviamo sia in taglia micro USB per quanto riguarda tutti i dispositivi Android e in taglia Lightning per quanto riguarda i dispositivi iOS. Ed infine un cavo USB e micro USB per ricaricare il radiocomando del drone. La peculiarità di questo drone è quella di essere super compatto, richiudibile e quindi trasportabile tranquillamente ed avere comunque una buona videocamera con un gimbal addirittura meccanico. Anche il radiocomando è stato progettato per diminuire al massimo l'ingombro ma nonostante ciò non perde molte funzioni ed è comunque ben impugnabile. Questo è tutto per il mio unboxing, noi ci vediamo con la recensione completa in cui approfondiremo molto di più il mezzo. Lascio un like al video se ti è piaciuto, iscriviti al canale per non perdere nuovi video. E vi ricordo che in descrizione c'è il link per l'acquisto tramite personal drones o comunque per farvi un giretto all'interno del sito.